Allora, siamo in una fineta, qua c'è una pietraia, qui ce n'è uno, uno, tieni, uno, ora mandibola di un qualche animale, fa così, c'è il secondo, c'è un altro, forse Gambone ha trovato un altro, no? Allora andiamo a vedere gli altri due, ma così ci sono due fratelli, uno, uno e due. Mi è passato il mal di schiena. La Gambo è passato il mal di schiena. Che bello. Che gnocco. Fa che ti viene l'ernia. Aspetta no, ti devo fare la foto così. Dai ci vediamo dopo. Dopo la fantastica scena di Gambo, fa così, c'è un altro patatino. Bello fresco. Si inizia a carburare. Gigi ne ha trovati un paio, Gambo ne ha trovati tre piccolini attaccati insieme, e io adesso ne ho trovati altri due. freschissimo questo. Ecco un altro. Un po' più rosicchiato. Mi sa che ci sarà da lavorare con questo. Ne avevo dimenticato uno. Ne avevo dimenticato uno. Il vento. E ha tagliati. Però vabbè è sempre fresco. Della serie, se questo è un fungo. Nella come cacchio è cresciuto. Minchia lo serpente. Il serpenta su un aglio. Uno l'ha già raccolto. Che gnocchi, che gnocchi. Uno. Uno. C'è la linea di posta. C'è la linea di posta. Difatti i fratelli ci sono. Uno. Lo vedete? Due. 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 Freschissimi. Due. E il terzo che è uno spettacolo. E tre. Ma che boccia. Ma che gnocco. Stupendi. Vediamo se ci sono in giro i fratelli. Canaletto. 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 Canalino. Tronco. 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 Guardalo qua. Ce n'è pure sotto un altro. Stupendo. Canaletto. Il Canaletto è un pittore. Allora, questo qua non l'avevo visto, piccolino. Uno. Questo, che è fantastico. Stupendo. E' questo. E' così. C'è il patatone terzo. E' il sugo lì. Che è fatto col tornio. Spostiamo il tronco a questo punto. A metterli insieme fa. Uno. Due. Tre. Siamo nella costina più avanti. Ma quanto sei bello. Oh, va che bello. Guarda che bello. insomma. Qualche funghetto c'è. Insomma, qualche funghetto c'è.